Amici malati di Spezia, terminata la partita contro il Lecco, finita 1-1, una grandissima occasione persa, questo potrebbe essere il titolo di questa nuova puntata insieme, andiamo ad analizzare il tutto. Una grande occasione persa sicuramente anche alla luce dei risultati delle altre, Raffer Alpi infatti ha pareggiato contro il Cosenza, il Bari ieri ha perso contro la Cremonese e la Ternana non è andata oltre il pareggio con il Modena, quindi classifica sostanzialmente che cambia per non cambiare per nessuno, perché tutte sostanzialmente pareggiano, però quella di oggi contro un Lecco fanalino di coda in casa, partita che poi regalerà allo Spezia 20-25 minuti con l'uomo in più, doveva sicuramente essere capitalizzata meglio, perché i tre punti di oggi molto probabilmente avrebbero lanciato lo Spezia verso una salvezza diretta. Ma ripeto, la classifica e la salvezza diretta è lì, lì, perché sostanzialmente il Cosenza è a 35 con lo Spezia e il Bari, quindi siamo veramente lì per essere alla salvezza diretta, ripeto però, oggi servivano assolutamente questi benedetti tre punti. Spezia che dal mio punto di vista ha fatto un passo indietro importante, sia dal punto di vista della prestazione, sia dal punto di vista del gioco, sia dal punto di vista offensivo. Spezia che con il solito Ristov, che se continuerà così diventerà capocannoniere della squadra, ha già sette i punti che ha portato allo Spezia con i gol contro l'Ascoli all'andata al ritorno e quello di oggi che regala un altro punto allo Spezia, sette i punti che ha portato Ristov a questa squadra, la sblocca allo Spezia con un calcio piazzato e lo Spezia si renderà pericoloso su molti calci piazzati, avendo un'altra occasione con Ristov, altre circostanze favorevoli nel primo tempo, quindi il mister da questo punto di vista evidentemente sta lavorando molto sulle palle inattive, perché effettivamente se davanti questa squadra produce poco e l'apporto degli attaccanti è praticamente nullo ai fini realizzativi, i gol da qualche parte si dovranno trovare e se non li fa verde evidentemente si devono sfruttare le palle ferme. Spezia che però dopo il gol non mi è piaciuto, non mi è piaciuto assolutamente, un po' come contro l'Ascoli, l'atteggiamento è cambiato, ma a differenza dalla partita di Ascoli lo Spezia da mio punto di vista ha proprio compiuto troppi, troppi errori dal punto di vista individuale dei giocatori. Un Nicolau oggi che sembrava sostanzialmente in barca, in alto mare, in preda veramente ha una tempesta, sballottato di qua e di là, ha sbagliato veramente tutto quello che si poteva sbagliare, infatti poi il mister andrà a sostituirlo a fine primo tempo. Esposito che dopo il gol che ha segnato lo Spezia, ha ricominciato anche lui con i soliti fraseggi, giochetti e quant'altro, ha compiuto una leggerezza gravissima che per poco non consegna un calcio di rigore all'Ecco, fallo che infatti è stato veramente pochi centimetri prima dell'area di rigore, male anche lui da questo punto di vista, appena cala di intensità di atteggiamento si torna a parlare delle stesse cose. Tanco poi subentra a Nicolau e anche Tanco oggi sinceramente disastroso, si fa munire dopo 50 secondi, dopo che la partita riprende nel secondo tempo e poi per tutta la partita palesa veramente dei limiti tecnici evidenti e grossolani, sparacchiando palloni in tribuna, facendo falli inutili con questo pallone tra le gambe che a momenti sembra essere veramente una bomba a mano e nelle ultime occasioni con l'uomo in meno consegna appunto all'Ecco veramente la possibilità di addirittura andare a vincerla. L'Ecco che ha fatto la sua onesta partita, ha anche delle buone individualità, giocatori rapidi soprattutto negli esterni offensivi, lo sapevamo, anche all'andata lo Spezzi ha tribolato e non poco, sicuramente appunto una squadra non arrendevole che ha venduto cara la pelle e che ripeto, negli ultimissimi minuti con l'uomo in meno, l'allenatore ha cambiato e ha messo cambi offensivi, ha maggior ragione appunto, ha testimonianza di provarla a vincere anche perché l'Ecco non aveva granché da perdere essendo in fondo e per poco ripeto con un tanco disastroso, per poco non trova anche l'occasione per vincere. L'occasione per vincere c'era anche lo Spezia all'ultimissimo secondo della partita con Verde che fa una bella serpentina nonostante fosse stanchissimo però poi sbaglia, la conclusione importa perché quello sarebbe stato un 2-1 importantissimo. Però lo Spezia quando è costretto a fare qualcosa in più, a cercare di vincerla, perde completamente la testa nelle trame offensive, si è visto un secondo tempo confusionario, completamente privo di idee, di gioco e anzi lo stesso Esposito spesso rallentava le opportunità, questo pallone che doveva soprattutto verso gli ultimi minuti della partita con l'uomo in più doveva viaggiare più veloce, rallentava il gioco, permetteva appunto all'Ecco di schierarsi in maniera molto ordinata dietro e sostanzialmente lo Spezia, a parte l'occasione di Verde e il palo di Esposito su calcio di punizione poi non dice più nulla e quindi la partita finisce con un pareggio, un pareggio purtroppo sanguinoso per lo Spezia che continua nella striscia positiva però effettivamente oggi era un'occasione importante a sei partite dalla fine per fare uno scattino, prendere due punti anche alla luce di quelle che saranno poi le due partite che lo Spezia dovrà affrontare fuori casa la prossima contro il Parma, partita ovviamente neanche da commentare per quanto riguarda il coefficiente di difficoltà e poi verrà al picco la Sampdoria nel derby Ligure con una Samp che fino a poche settimane fa era indischiata una lotta a salvezza e che ora con gli ultimi risultati positivi veleggia in quelli che probabilmente saranno per loro i playoff, quindi arriverà al picco con la testa libera, con l'obiettivo, il bisogno di fare punti per consolidare il loro piazzamento nei playoff e quindi anche lì sarà una partita molto molto importante. Se volete la mia opinione è fondamentale il recupero di Di Serio perché davanti effettivamente Moro è lo stesso più esposito quando sono subentrati il loro rapporto è stato pressoché nullo, meglio Pio rispetto a Moro, però effettivamente ragazzi l'apporto, il peso specifico dell'attacco, del nostro attacco quest'anno è veramente ridotto ai minimi termini, io non ricordo un attacco così sterile negli ultimi anni per quello che riguarda lo Spezia. Falcinelli anche oggi ha fatto il suo davanti, però lo sappiamo insomma gioca sostanzialmente come uomo reparto cercando di prendere i falli, spalla alla porta, cercando di far salire la squadra e quant'altro, però poi ai fini realizzativi serve qualcosina in più. Falcinelli con Di Serio sarebbe sicuramente una copiata molto molto più spendibile con lo stesso Verde a poter alternarsi con Falcinelli e allora lì sì che probabilmente lo Spezia potrebbe ritrovare i gol che Di Serio ha dimostrato di poter fare per portare a casa questa salvezza, salvezza che rimane a portata di mano, ma comunque molto molto complicata. Se nelle ultime giornate mi aveste detto che lo Spezia sarebbe stato a questo punto del campionato con la salvezza diretta a portata di mano, sicuramente non ci avrei creduto per tutto quello che si era visto. La media punti di Mister D'Angelo che possiamo vedere, 25 partite a media di un punto e 32 partita, quindi l'apporto del Mister è sicuramente fondamentale, però ripeto, effettivamente se non segna Ristov o lo stesso Vignali che anche oggi ha avuto un'occasione, effettivamente lì davanti si crea veramente veramente poco e se bisogna conquistare questi ultimi punti, effettivamente qualche gol anche dagli attaccanti va trovato perché non sempre ci si può affidare ai difensori che stanno diventando sempre più gole ad oro. Noi ci ritroviamo per commentare la prossima partita, Parma-Spezza, sappiamo tutti la valenza che ha sia per la classifica, sia per la storia e per la rivalità che c'è chiaramente tra queste due tifoserie. La nostra è quella del Parma e per forza contro il Parma e contro la Samp qualche punticino andrà necessariamente rosicchiato perché siamo entrati nelle ultime sei partite, i punti a disposizione sono 18 e quindi bisogna assolutamente cercare di capitalizzare il più possibile. Oggi due punti persi, assolutamente sì, oggi due punti purtroppo persi. Speriamo che ai fini del campionato poi non siano fondamentali e che di Spezia possa chiudere come tutti. Noi ci auguriamo. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale, lascia un mi piace se ti è piaciuto il video, ma soprattutto commenta il video qui sotto per farmi sapere i tuoi migliori e i tuoi peggiori e soprattutto commenta il video per farmi sapere se sei d'accordo o meno con l'analisi alla partita. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, malati di Spezia, buon weekend e soprattutto buona domenica. Al prossimo video. Ciao. Ciao.